Una famiglia, due giovani genitori, sei bambini, un altro in arrivo a breve. Un primo nucleo di cittadini afghani in fuga dal loro paese è arrivato nel Veronese due giorni fa. L'ospita un appartamento nel comune di Soave. La logica spiega il prefetto che coordina l'accoglienza è quella indicata dal ministero attraverso il SAI, Sistema Accoglienza e Integrazione, che vuole coinvolgere comuni, mondo educativo, mondo del lavoro. È proprio questo l'obiettivo, quello di facilitare l'accoglienza da parte delle comunità e quello di creare una rete sul territorio che garantissa l'inserimento socio-economico delle persone che vengono assegnate a quel territorio. E anche, teniamo conto, si tratta in gran parte di minori, l'accoglienza prevede anche un'integrazione di tipo educativo scolastico per questi minori. L'obiettivo è integrare i piccoli attraverso la scuola e gli adulti attraverso il lavoro. Da questo punto di vista abbiamo ricevuto qualche offerta anche da parte di aziende importanti del territorio Veronese che sono dette disponibili a offrire lavoro ai genitori e accoglienza ai nuclei familiari. Nei prossimi giorni altri profughi afghani dovrebbero arrivare. A disposizione ci sono già alcuni alloggi. Nel caso arrivassero in molti insieme si sta attrezzando una struttura in collina per una prima ospitalità. Breve perché l'obiettivo sarà sempre quello di inserire piccoli nuclei nelle comunità.